La vittoria dei ragazzi a dir poco emozionante, insomma come si dice in questi casi, vietato ai deboli di cuore? Vietatissimo, no no, sono stati fenomenali, veramente hanno ribaltato una partita difficilissima contro un Giappone che ha giocato la partita perfetta, cioè non ha sbagliato niente, però davvero ci hanno creduto e sono stati fantastici sia i ragazzi che i fefè. Tra l'altro adesso hanno i padroni di casa, quindi giocheranno in un bacino diciamo bello incandescente. Ma guarda, io sicuramente andrò a vederla domani, una bella partita, una bella partita con i campioni in carica e con un pubblico, sicuramente un grande pubblico francese, però penso che dopo quello che hanno fatto l'altro ieri penso che sarà difficile per i francesi. Tra l'altro invece in campo femminile Giulio Velasco sta veramente facendo un bel lavoro, si vede come ha lavorato su queste ragazze sia da un punto di vista tecnico ma anche e soprattutto mentale. Io penso molto di più a livello mentale perché la tecnica, sono ragazze che con gli anni sono cresciute moltissimo, hanno preso molta più consapevolezza dei propri mezzi e penso che Giulio ha fatto un lavoro importante a livello psicologo, psicologo nel senso le vedo molto serene, le vedo molto sicure, molto tranquille, c'è uno spirito buono in campo e quindi penso che abbia fatto un ottimo lavoro.